Da diverse settimane siamo impegnati con mezzi e uomini nell'operazione Mare Sicuro 2021. Si tratta di un'operazione disposta dal Comando Generale delle Capitine di Porto Guardia Costiera e coordinata a livello periferico dai comandi regionali, nel nostro caso dalla Direzione Marittima della Campania. Si tratta di un'attività che viene svolta secondo una pianificazione e una programmazione basata anche sull'analisi del rischio al fine di garantire la completa sicurezza di tutte le attività che si svolgono in marco. Prima regola fondamentale per i diportisti è quello di navigare mantenendosi al di fuori delle zone riservate alla balneazione così come segnalate in base alle regole stabilite nell'ordinanza di sicurezza balneare. È importante altresì per avvicinarsi alla battigia utilizzare i corridoi di lancio. Ricordiamo inoltre di mantenere una velocità ridotta nel momento in cui si approccia al porto per evitare qualsiasi tipo di pericolo alla sicurezza della navigazione. Prima di intraprendere il viaggio, qualunque esso sia, ricordarsi di avere a bordo tutte le dotazioni di sicurezza e di emergenza in funzione del tipo di viaggio che si intende affrontare. Raccomandiamo a tutti la massima prudenza per una stagione balneare in piena sicurezza e ricordiamo il numero per l'emergenza in mare 1530. Grazie per la visione!